e arrivederci ma è ancora da dentro ma è diventata casa sua ecco così impara andare avanti è uno la mia vita deve essere così la fai entrare dentro no non posso aiutarti questo è morto sul colpo c'è la porta cavolo lo so fatto un boato di danni c'è ancora un team io ho ucciso uno ho ucciso un team e c'è un altro team qua ci credete sei qua da me no no è qua dietro ok ragazzi basta no ma ti hanno finito fanno bene io ammazzerei chi va alla prova ma è giusto c'era un pattin solo che è morto sul colpo e mentre prendevo il t è arrivato un altro team ancora che era ancora skyhook ma non c'erano più voglia di andare in safe questi è incredibile è sempre a salvare la giornata al mamma mia quanto è dura la vita si si prova dei nove vedrai il prossimo giro mancano due minuti 17 e io ci credo si si io tra l'altro mi hanno distrutto il body non è che l'hanno solo l'ho salutato eccomi il mio flatline degli idee senza ammo ora qua dietro morto revenant morti tutti dietro le casse oltre il shot morta la line new team team 47 flash 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 davanti a te raid dietro al drop qua gli altri mi serve una secondaria mi serve una secondaria no non pushare troppo arrivo sono davanti a me dietro sarò c'è uno che mi ha visto c'è uno tramite pet che a piedi nascosto sono scappato c'è uno è uno qua che mi ha visto c'è uno qua nascosto ok no era morto ma non lo sapevo era la passiva che me l'ha detto bosseggio grazie per il quarto mese e abbasso la wingman 47 flash qui in oro io ti trusto tommy c'è un tp dietro di noi c'è un tp di caustic gli ho tolto l'armor alla lifeline la lifeline ha 60 hp sono full fai una attiva meno scelta altra squadra in arrivo? si altra squadra in arrivo? no sono lontani credo fai vacca entrate in casa please si 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 ci sono ci sono qui in cima hostile mindmarker io prendo questa causa la prima che la prendano loro 38 mi hanno sfondato 38 flash al gibbie 30 fatta ma ci lascia una sera rosso possiamo entrare da sotto raga e va se vuoi ti faccio tp no ti faccio tp aspetta non invento da 47 papp crackata crackata brave ragazzo non doppio trattato al trattato devi aprire no a presto questo vicino a me grazie solo lifetime arrivo arrivo stare stando stare stando ma donna mia ma che ma altro che ha in botti arriva l'ultimo is it gg time e qua 222 152 a 1 parte 1 ma è tutto vostro io ho fatto sotto io ho fatto dentro la roccia ai mori dentro la roccia gg boys tutto merito al sicuramente al 1664 di danno esatto raga grandi no no non ce la faccio c'è il mio proler fu il percato lo voglio almeno mi è sembrato avesse il fronte petta il froler vediamo se ce l'ha si si no la mia roccia dai il frullatore arrivo bianco blu e viola l'ho negato arrivo subito se no non riesco a fai tarpi due down arrivo tra casa usate raga non lo faccio più mi scusi a un momento per parlare del mio r99 tra i suoi denti ecco la cara nel balun full team valla palloncino tra i denti andiamo a prenderli cosa fa quello guarda al volo guarda al volo l'indili devo farmi quello da solo peccato guarda come corre che peccato e niente pet dietro pet stiamo facendo fattora da me vado volo dato in fade uno amico ha fatto un dash del dio allora torno top torno top solo uno ha preso il ballone cosa stiamo facendo datemi info allora io esatto e io dovete dirvelo questo mi ha chiesto cosa bisogna fare anche in che situazione magra mi hanno messo calma calma chiunque sia no sono due team però allora calma e sangue freddo salvo anch'io scendete voi scendete voi di sculcurarmi benissimo come d'incanto è stato noccato senti come tossico pet stasera uno l'ho hittato che sfigizio distrutto il crypto mi scusi ah l'ho fatto da drill mi so sono due team comunque ci siamo messi in mezzo a due team oh si è notato tardi ti d'ora di più neanche ho noccato uno ci credi è 72 flash in cima in cima tutto in cima sul tuo tetto è un hp ma anche nell'altro sai che sono messi molto male ho un hp oddio ti vede la nette no eh se non ci fosse un pad sono cosa a fianco è pieno di gas non ci si può muovere ragazzi voglio dedicare la prossima giocata non so a chi perché non trovo l'arma la roba che vuol niente vabbè la dedico a Dino avete DT? tutti e due sono entrambi le armi ok ok c'è un altro team però grazie la ringrazio buon uomo c'è uno vicino dove è andato boh è uno qua a fianco dove c'è qui è andato oh toccata la life nell'altro bin tu pensi di chi non lo sappia sì ma c'è una lontana uno è morto fuori uno arrivo ah nell'altro bin madonna nell'altro bin salve push è tranquillo che ci penso io vai 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 quello è tutto tuo easy è rimasto uno solo sì sì è uno solo è qua da me boh è tutto vostro questo qua è la dorata invece appena lo noccate questo qua questo qua gg raga bella easy 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 badabada boom pam pam new this guy my Grazie a tutti.